Nelle epoche più recenti possiamo fissare dei momenti significativi sull'evoluzione della sessualità? Sì, innanzitutto c'è da dire che ovviamente la sessualità segue l'evoluzione dell'essere umano da sempre, quindi mettere in risalto un periodo ben definito è importante perché altrimenti andremo incontro a un escursus talmente ampio, talmente tutto da verificare, da sondare che non basterebbe certo una trasmissione, quindi riferendoci soprattutto a un periodo che ci riguarda più da vicino e più specificatamente dal Novecento in poi, in modo che identifichiamo già qualche cosa di ben vicino a noi, quindi più direttamente rilevante diciamo. Certo, perché altrimenti veramente non finiremo mai, gli argomenti sono tanti, possiamo già far capire innanzitutto una cosa molto importante, che si va a parlare di una sessualità che completamente si rinnova, cambia rispetto a quello che era la sessualità che ha preceduto questo importante periodo, proprio perché incomincia ad andare verso l'uomo moderno, non dimentichiamo che già dai primi Novecento, tipo la Belle Epoque, ci sono state delle epoche che hanno cambiato radicalmente il modo di vedere, di pensare e diciamo il progresso che avanzava, quindi anche la sessualità ha giocato il suo ruolo in queste cose e ne ha subito ovviamente anche quelli che sono i principali, le più importanti fasi di cambiamento, perché non poteva essere disgiunta appunto dell'uomo. Basti pensare che, giusto per fare un salto e far capire la differenza, che nell'uomo primitivo, che evidentemente aveva una sua precisa sessualità, faceva l'atto fecondativo oggi e dopo nove mesi nasceva il risultato di questo atto fecondativo, ma non riusciva ovviamente a mettere in relazione questo, che arriva un bambino, quindi si chiedeva ma da dove viene? Perché sono passati nove mesi, non sapeva assolutamente niente e si chiedeva sono stati gli dei, era la risposta, quindi era un atto veramente e totalmente diverso da quello che è stato poi la conoscenza che ha seguito l'essere umano negli sviluppi e quindi un salto veramente eccezionale in tutti i sensi. Poi per esempio nel Tribù dei Nativi americani ci sono stati dei gruppi che erano siglati da dei clan, che erano appunto siglati da dei totem, che erano diversi da clan all'altro, perché proprio per evitare quello che era l'incesto o per evitare tutte quelle pratiche sessuali che sarebbero state sconvenienti nell'ambito di uno stesso gruppo familiare, avendo il totem in un certo quel senso dicevano, qui dicano il totem azzurro, non possono andare con quelli sotto il totem azzurro, devono andare con quelli del totem rosso, tanto per fare una differenzione. E questo non solo per evitare appunto l'incesto ma anche tutte quelle che erano le derivazioni da questa pratica che ovviamente era da scongiurare. Quindi proprio passaggi di epoca in epoca, di popolo in popolo, di usanze e costumi socioculturali che hanno poi portato, tornando adesso di fretta all'Italia, a quello che è stato l'ultimo secolo che diremmo che nei nostri confronti ha proprio siglato un insieme di cambiamenti importanti. Io li definirei micro cambiamenti e macro cambiamenti. Perché? Perché in quest'ultimo secolo appunto ci sono tre o quattro date, proprio date precise o quantomeno eventi particolari che hanno fatto uno step totalmente differenziante nei confronti di ciò che aveva preceduto. Sono stato quasi uno spartiacque. Esatto, uno spartiacque. Mentre tante altre argomentazioni diciamo che parlare di costumi sessuali di un popolo come l'Italia o comunque dell'Europa che era appunto rispetto ad altre parti del mondo la più avanzata anche da un punto di vista socioculturale significa anche indagare quello che è stato, bisogna dirlo, il ruolo importante della Chiesa nello sviluppo di tutto quello che è avvenuto. Non dimentichiamo che la Chiesa in Italia poi è stata sempre molto presente con tutti i suoi dogmi come nel resto d'Europa. Esiste da due mila anni, quindi evidentemente degli effetti profondi li ha prodotti. Io dico sempre se andassimo a Cuba o in Brasile ovviamente la sessualità viene vissuta in maniera totalmente diversa anche per molti socioculturali che hanno seguito il popolo. e quindi nel momento che diciamo questo nel ruolo della Chiesa dobbiamo tenere presente che c'è stato più di un argomento che ha interessato fondamentalmente quello che era un accordo da prendere, cioè ci sono stati temi come l'aborto, temi come l'audulterio, la contraccezione, il divorzio, la masturbazione, il matrimonio, i rapporti sessuali coniugali ed extraconiugali, l'omosessualità, la pornografia, tutti questi microtemi poi in realtà hanno siglato un'epoca perché le battaglie condotte per superare o per andare avanti su certi argomenti adesso le facciamo come un escluso storico, però in realtà ognuna ha necessitato di battaglie anche non da poco. Non dimentichiamoci il periodo dell'inquisizione, tanto per fare un esempio, il cavallo del Medioevo in cui gli eretici venivano perseguiti, torturati fino a che non avessero abbiurato alla loro idea e quindi venivano messe delle persone a rogo o comunque a morte, la caccia alle streghe, tanto per essere chiari, che erano donne avanzate rispetto al loro tempo, donne più consapevoli, donne che praticamente erano un po' evolute e venivano bruciate. Possiamo fare degli step soprattutto nella Novecento, soprattutto qui in Italia, in Occidente ma in Italia in particolare. Ma io direi che per andare, come dicevo prima, passare da questi che erano i piccoli step ai grandi step, io come prima cosa direi che il 1958, anno in cui la legge Merlin ha dato i suoi effetti, è il primo grande step. Perché? Perché questa legge che tra l'altro è stata presentata nel 1948, quindi è stata poi approvata dieci anni dopo, anche lì da qui si capisce con non poche battaglie a livello proprio... Dieci anni è un periodo storicamente oggi lunghissimo. Infatti e praticamente la legge Merlin che prevedeva la chiusura delle case chiuse ha dato il via a tante altre cose. Non dimentichiamo che le case chiuse in quel periodo sono state 5.000, quindi non erano poche, 5.000 case chiuse in tutta Italia. Perché case chiuse? Perché lo sappiamo erano tutte case con le serrande giù perché non si vede cosa accadeva dentro. Oppure case di tolleranza, case di tolleranza perché erano tollerate dallo Stato da un punto di vista proprio di si sa che ci sono, si fa ma non si dice, diciamo, è quella vecchia frase. E quindi questo macro step, diciamo, del 58 in cui non dimentichiamo che gli italiani incominciavano, era finita la guerra, c'era tutta la ripresa economica. Stava iniziando il boom. Stava iniziando il boom, di fatto. E anche da sottolineare che i giovani di allora venivano tutti iniziati, e uso la parola iniziati, tra virgolette, proprio nel bordello, diciamo, che era così classificato anche sulla Treccani. Quindi... Il dato che non sapevo, 5.000 case chiuse in Italia vuol dire che evidentemente c'era, chiamiamolo, possiamo dirlo, lavoro. C'era richiesta, c'era lavoro ed erano tantissime. I comuni sono, in Italia mi parla, sono 8.000. Quindi statisticamente c'era quasi una... Il comune, diciamo, non piccolo, aveva la sua casa di tolleranza. E difficilmente un ragazzo andava a fare, diciamo, l'iniziazione con una ragazza del suo stesso livello di classe sociale, tipo il ragazzo borghese per il ragazzo borghese. Quasi tu nel 99% non era quasi possibile avere un rapporto prematrimoniale con una ragazza di pariceto, si andava a farsi iniziare. Il brodel, molte volte, erano i propri padri che portavano i figli al convivimento del centesimo anno d'età. Addirittura, ecco, c'era questa propria iniziazione da padre a figlio. Esatto. E quindi diciamo che la chiusura delle leggi, che poi ovviamente però ha messo le prostitute per strada, perché non è che abbia creato qualcosa di alternativo, ha rappresentato una diffusione di tutto quello che prima era seminascosto, o meglio, nascosto ma neanche tanto e ha creato appunto il mercato vero e proprio del senso. C'è da notare che non è condannata la pratica della prostituzione, ma in effetti c'è chi va a prostitute e quindi l'hanno in un certo quel senso fatta passare come una cosa che c'è ma che non si vede e vanno a colpire invece coloro che sono favorevoli allo sviluppo della prostituzione. Sì, è stata decriminalizzata, ma nel contempo non chi viene trovato in fragrante, diciamo, e quindi ogni tanto succede infatti che succeda qualche problema di fanno delle lecate. Ecco, ecco, dopo il 58 che comunque ha segnato un fattore importante di cambiamento, io andrei dieci anni dopo al famigerato famoso 1968, anno in cui stiamo sempre parlando dei macro step, cioè quelli che proprio hanno segnato una generazione. Le pietre miliari proprio. Le pietre miliari, nel 1968, in cui si va verso la libertà sessuale, nel senso che fino a prima appunto vigeva una certa morigeratezza, un certo timore della religiosità, dei costumi e quindi c'è stato questo spacco, diciamo partito con questo grande processo, in America poi non dimentichiamoci, Woodstock, tutti i grandi campi di liberazione sessuale, in cui veniva inneggiato un amore libero, dove c'era musica, c'era le prime droglie che giravano, c'era questa sessualità proprio libera e veniva appunto disgiunta quasi totalmente da quello che era l'atto amoroso, quello che praticamente veniva predicato dalla Chiesa perché si poteva fare l'amore solo nell'ambito del matrimonio, perché c'era amore e procreazione, mentre al di fuori del matrimonio amore e procreazione. Infatti non a caso è stato definito amore libero, libero dal vincolo matrimoniale. Totalmente, e lì ovviamente le persone hanno cominciato a trovare la piacevolezza della sessualità disgiunta dall'amore, che però io qui farei un piccolo richiamo di attenzione perché è anche vero purtroppo che l'amore, se caricato dell'emozionalità che porta con sé dà un certo tipo di piacere proprio stato anche dimostrato e un certo livello di autostima e di soddisfazione, mentre se noi disgiungiamo sesso dall'amore, l'emozionalità che gioca l'80% del suo valore nel rapporto sessuale, insomma si va un po' a perdere, quindi diventa vorrei dire quasi una ginnastica, uno sfregamento di una certa zona del corpo e una prestazione, quindi sembra che a molti piaccia comunque, non c'è un giusto sbagliato. Poi tra l'altro credo che ritorneremo sull'argomento, ci sono altri momenti diciamo topici? Certo, diciamo che oltre al discorso della contestazione si è anche avvalsa di una cosa che fatalità proprio in quegli anni stava succedendo, è successo che nel 1956 un certo Gregory Pincus, medico americano, ha fatto la scoperta della pillola, pillola anticoncezionale che effettivamente direi che a livello mondiale ha rappresentato un cambiamento totale, perché in questo modo la donna diventava artefice e decisiva nella scelta della sua sessualità, cioè se procreativa oppure no. È il salto dalla sessualità definita procreativa a quella ricreativa. La definizione proprio è ricreativa, da noi ovviamente questi termini non si usano, ma è la definizione più esatta, perché proprio le tre dimensioni della sessualità sono appunto quella ludica, quella procreativa e poi quella diciamo anche di conoscenza del corpo dell'altro e quindi fisiologicamente un qualche cosa che vada a farci crescere da un punto di vista alterità nei confronti di un'altra sessualità. E quindi la pillola è stata veramente un qualche cosa che ha cambiato il modo di pensare, il modo di fare, il modo anche di relazionarsi, non dimentichiamoci che oggi come oggi esistono tra l'altro argomento magari non pertinente ma i famosi friends with benefits dall'inglese, sarebbero tutte quelle persone che decidono di avere delle relazioni sessuali, senza emozioni, senza niente di più, come amici e la cosa finisce lì, nel senso che non prevede nessun investimento di tipo sentimentale, mentre sappiamo che la relazione con le R maiuscole vuole che la coppia sia da un punto di vista sentimentale e sessuale appagata. Chiarissimo, quindi ribadiamo proprio, lo spartiacco è forse principale nell'epoca moderna, contemporanea, proprio la scoperta della pillola, non solo da un punto di vista quindi fisico, ma proprio come diceva giustamente ha influito in maniera decisiva sul modo di relazionarsi tra i due sensi. Sì, di autogestione proprio della donna, anche perché non dimentichiamo che gli anni sessanta sono quelli che hanno visto anche, adesso per dire una cosa proprio microscopica, ma la venuta della minigonna, abiti succinti, quindi la donna ha cominciato a gradire, di mettere in mostra il suo corpo, di essere guardata, di essere ammirata, di essere seduttiva, quindi passiamo attraverso un periodo non di oscurantismo, ma comunque dove tutto quello che riguardava la sessualità, la sensualità veniva in un certo quel senso tenuto in disparte, rigogliosamente è stato messo… Possiamo in un certo senso dire che appunto l'esibizione, l'utilizzo anche di abiti, come si diceva, succinti provocanti è stato favorito anche dall'utilizzo della pillola donna, in questo senso… Beh, diciamo che a livello psicologico la donna è sentita più libera di osare e più sicura di se stessa, certamente, perché prima giocava ancora al fatto che, uscendo ovviamente, non dimentichiamo che anni prima c'era stato il discorso tutto del fascismo, per cui di una società molto patriarcale, dove la donna era l'angelo del focolare domestico, quindi c'è questo grande passaggio da donna del focolare domestico, diventa donna artefice di se stessa, della sua sessualità, la donna del nuovo millennio è una donna totalmente nuova, consapevole, che cerca il suo piacere, una donna che sa dove poter arrivare e che non vuole assolutamente più restare nell'ombra, ma è consapevole che il suo sesso può essere molto soddisfacente, molto pagante e soprattutto non più responsivo solo a quello dell'uomo, perché prima così era. Era, sì sì, assolutamente. Sì sì, assolutamente.